Il Front Village Arena, pala barbuto di Napoli per la seconda giornata della Serie A Unipol tra Napoli basket e la palla canestro Trieste Il palleggio, l'iniziativa, l'appoggio brillante di Johnson L'iniziativa ancora di Pangos, step back, la tripla col passo all'indietro da parte di Zac Copland Recupero, la palla, la schiacciata da parte di Charles Manning, adesso il time out Valentine una scivolata che rischia di trasformarsi in un'infrazione Yutof passa sotto il canestro, elegante, sottomano, rovesciato Trieste, Marche Brown dall'angolo, la tripla di Brown Manning, vediamo cosa fa Manning, uno contro uno, lo scarico in angolo Entra la tripla, poi rinuncia, era ancora una rinuncia, va al tiro La segna, questa volta la tripla Blocco di Brooks, lo scarico, Brown prendi e tira nella sua classica maniera Woldetensai, la palla torna a Pangos, l'uno contro uno di Copland Narcobaleno ancora per Totè, appoggiato a canestro Pangos è schiacciato per Copland, buon movimento Uscire, ottima tripla di Copland Napoli che adesso recupera palla con Totè, Ross lo insegue, cerca di ostacolarlo Totè, l'appoggio, in terzo tempo, più dieci Napoli Ancora Brown in angolo, in movimento, in ritmo, seconda, tripla, consecutiva Per Markel Brown, partita strepitosa Ross la frenata, tentativo a segno sulla difesa di De Nicolao Si chiude il primo tempo Passaggio dietro la schiena, affondata di Markel Brown Angos Totè è cercato ancora, grandissimo movimento Aiuto cerca la linea di fondo, ha tenato un canestro di sotto mano rovesciato al primo tempo Lo scarico per la tripla, un'altra tripla per Michele Ruzier Cambia mano in palleggio, Traier alla tripla, al segno E c'è il meno uno per Napoli Una tripla di Valentine La tripla sbagliata Brooks, rimbalza al lato debole però di Johnson Valentine tirerà, sicuramente tirerà e segna Ancora una volta Denzel Valentine Valdetensae non può non tirare, piccola esitazione questa volta in fila Valdetensae C'è il cambio difensivo, ne approfitta Pangos per il tiro da tre punti Su Brooks, c'è il top in Vincente da parte di Leonardo Totè per il vantaggio Napoli Brooks il blocco Lutov liberato dal gioco difensivo di Napoli In fila, una tripla importantissima Jared Jutov in un momento fondamentale per lui Brooks tripla, a segno, una tripla molto piatta Trieste recupera e qua la partita scade Senza ulteriore colpo a ferire da parte di Napoli Seconda vittoria in due partite Della neopromossa Palla a canestro Trieste Per un'altra giro Tutto in un momento Ho scato qui prima Ho scato che c'era un vero difficile Io sono molto felice che la squadra È un'altra giro che la squadra può far Sì, davvero molto molto piccoli In un'altra giro Verso una molto strade Trattante della squadra Di Napoli Pagosone Contra La squadra 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 Grazie.